25.000 metri quadri, 10 milioni di euro, due piani, 400 posti letto. Ecco l'immenso spazio che ospiterà un grande reparto di terapia intensiva e trasformerà la Fiera Milano City in un ospedale da campo allestito in centro città, proprio come a Wuhan. Bisogna fare in fretta perché le strutture sanitarie lombarde sono vicine al punto di non ritorno. Bisogna fare presto a trovare medici e respiratori, risorse necessarie per la realizzazione. Mi ha voluto chiamare, mi ha chiesto di dare... Ieri l'arrivo di Guido Bertolaso, che in prima linea guiderà questa missione accanto al presidente Attilio Fontana. Loro sono pronti e a dimostrarlo è il padiglione già allestito in una sola giornata con una decina di letti, un prototipo, un modello presentato alla stampa. Ci fanno accedere uno alla volta per garantire le distanze di sicurezza. Il percorso inizia dal blocco servizi, c'è un cartello bianco a segnalarlo, bianco e asettico, così come tutto il resto. Entriamo in uno degli spogliatoi, ci sono due docce per medici e infermieri, esattamente identico lo spogliatoio accanto. Un lungo corridoio divide il blocco servizi da quello di Genze, qui saranno ricoverati i pazienti più critici. Entriamo, ecco i letti, i beni più semplici da reperire, ma mancano respiratori, ventilatori e tutte le attrezzature necessarie. Anche i rubinetti funzionano già, tutti gli allacciamenti sono stati attivati. Proseguiamo in un'altra stanza, ecco qui cinque letti. Quello che vediamo è un modulo da dieci posti l'uno, quattro saranno riservati alla terapia intensiva e sei alla subintensiva, modulo che sarà replicato lungo i padiglioni uno e due. A disposizione per il personale sanitario, anche un ristorante mensa. I soffitti sono altissimi, le luci a neon e l'aria che si respira all'interno è raggelante, ma questi spazi rappresentano la più grande speranza per la sanità. Ora manca solo il via libera della protezione civile, le forniture e mille tra medici e infermieri. Battere il virus e battere i cinesi sul tempo, massimo dieci giorni la struttura potrebbe già essere attiva, è questa la nuova sfida di Regione Lombardia, un ospedale come a Wuhan all'ombra degli iconici grattacieli di City Life.